Ciao, sono Jessica Polski, questa è Ellie, noi restiamo a casa, mi raccomando ragazzi, anche voi, restiamo tutti a casa per un pochino, poi ci possiamo dare tutti i bacini e i bacetti che vogliamo dopo un po', ma più bravi che siamo adesso, più velocemente ne usceremo, quindi mi raccomando, uniti ce la faremo, a casa, ciao!